Una domanda molto breve e semplice. Prima parlava dell'importanza di un'equipe, quindi a partire da chi opera, ma anche l'anestesista, e diceva che man mano si stanno aggiungendo sempre più figure che possono portare il loro beneficio al paziente. Per quanto riguarda invece, mi passi il termine, l'educazione della famiglia, quindi qualcosa che possa coinvolgere anche i familiari ad affrontare un problema del genere. Avete pensato qualcosa? Allora, ha messo una giusta puntualizzazione perché nel programma di ERAS è previsto un coinvolgimento anche con la famiglia. Ora, come possiamo pensare, è un problema di educazione e quindi di dedizione anche, dare del tempo, ascoltare, coinvolgere, richiede aver chiaro il compito. Ma nel nostro reparto questo aspetto è molto accentuato, infatti le baccheche spesso sono ricche di comunicazioni, di pensieri, di ringraziamenti che ci spingono a continuare nella nostra opera. Grazie mille. Su, se posso, su, scusate la voce.